C'è un carto di faccio altro, sopra al... C'è un piccino? Ah, no, non puoi. Se poi c'è uno in più, lo sapevo. Allora, partiamo in quello senso. Ci conosciamo, non puoi fare la figa da lì? Scrivi quando vuoi, tu mi scrivi, lo giuro. Scrivi quando vuoi, dai... Vado il matrimonio? Scrivi quando vuoi. Scrivi quando vuoi. Scrivi quando vuoi. Scrivi quando vuoi. Grazie.